Occhio ai giornali, buongiorno e buon sabato a tutti. Benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV sul canale 17, l'informazione che comincia con il ricordare il santo di oggi, oggi è Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire, discepolo di San Giovanni Apostolo, resse per secondo dopo San Pietro la chiesa di Antiochia. Il sole sorgerà alle 7.27 e tramonterà alle 18.26. Uno sguardo al tempo, siamo nel fine settimana, diamo uno sguardo quindi alle previsioni del tempo con l'aiuto del bollettino della protezione civile delle Marche che per oggi prevede cielo nuvoloso, durante la notte e il primo mattino possibilità di brevi piovaschi sulla fascia costiera centro-settentrionale, fenomeni assenti invece per il resto della giornata. Domani cielo sereno poco nuvoloso, attenzione durante la notte al primo mattino alle foschie locali banchi di nebbia nelle valli e nelle zone pianeggianti in dissolvimento nel corso della mattinata. Per lunedì 19 ottobre ancora cielo sereno o poco nuvoloso con un po' di vento, un po' di vento nel corso della giornata, anche qui foschie locali banchi di nebbie quindi attenzione. Poi il resto della settimana proseguirà con l'alta pressione e quindi con il bel tempo. I giornali, apertura del Corriere Adriatico, il titolo dell'edizione di Pesaro Urbino, coprifuoco per noi è la fine, Covid, ristoratori contro la chiusura alle 22, ma c'è chi provoca chiudere ora ma salvare il Natale. Movida nel fine settimana previste pattuglie specifiche della polizia locale a Pesaro per i controlli. A centropagina la fotonotizia Casoli, duro attacco a schiavoni, nuova giunta in regione, Confindustria si spacca, a Pesaro i medici in coda sotto la pioggia per i vaccini, a Fano in classe con l'erba, denunciato studente ancora minorenne, Ancona uccise Pamela per osegale ergastolo confermato. Di spalla la rifondazione del Partito Democratico, niente commissario ma tabula rasa sui segretari. Ci mancava solo il Covid o forse benedetta pandemia, la direzione regionale del PD tanto attesa per la resa dei conti, ieri non c'è stata ufficialmente rinviata per Covid ma fiorano gli scenari possibili dopo che le assemblee provinciali hanno bocciato il commissariamento, si parla di un tabula rasa dei segretari, qui c'è il segretario Gostoli e la gestione di un comitato di garanti. Di taglio basso, sempre nella prima pagina del Corriere di Pesaro, a 12 anni scrive a Mattarella, bandiera la nostra stabilità, il Presidente gli risponde con una lettera e gli dona anche una coccarda triconore. Protagonista un dodicenne con la sua mamma ovviamente che risiede a Mondolfo. L'edizione di Pesaro del resto del Carlino. TVS in mano ai cinesi d'America, la maggioranza dell'azienda che produce pentole alla Corporation Meyer, ai Bertuzzini resta dunque il 40%. La cerimonia invece all'Università di Urbino, sigillo d'Ateneo al Ministro Lamorgese, patto per la legalità, sportivi al palo, calciatore positivo, l'Urbino ai box. Al San Salvatore invece arrivano i malati da Ascoli e si riparla del Covid Hospital di Civitanova Marche, allarme baristi, psicosi, virus, clienti già in fuga, medici in fila per procurarsi i vaccini, troppo pochi e poi l'appello dopo l'incidente, cara pirata della strada adesso fatti viva, l'appello vedremo tra poco e poi calcio serie C, la Vis a Verona, meno errori per crescere oggi alle 15. L'anticipo in casa della Virtus e Galderisi dice occhio alle disattenzioni. La pagina di Fano, il Corriere Adriatico in classe con la Marioana in tasca, denunciato uno studente minorenne, frequenta un istituto superiore del Polo 3, aveva anche 35 euro frutto della vendita dello stupefacente. Qua sotto invece è identificato il ladro d'auto di incidente, l'incidente a Cartuceto, è accusato di aver rubato un'automobile lì in paese, poi causato un incidente a Fano e alla fine di essere fuggito. I carabinieri di Colli al Metauro l'hanno rintracciato ieri mattina e denunciato. Si tratta di un immigrato di origini lettoni che ha 33 anni. L'apertura di Fano lo stesso è su questo caso di cronaca, la Marioana a scuola, nei guai un sedicenne, denunciato a piede libero per la detenzione ai fini di spaccio di droga, a scoprirlo gli agenti del commissariato con le unità cinofile. Le reazioni, la preside, la sacralità della scuola non va mai violata. Questa invece è la pagina 2 di Fano del Carlino. Trasformiamo la Rocca nel Castello di Ghiaccio. A lanciare l'idea il presidente degli alberghi consorziati, Luciano Cecchini, e sulle iniziative di Natale in città spuntano già le prime programmazioni. Intanto la fotografia, molto bella, tra l'altro suggestiva, dall'alto è la pista di ghiaccio in piazza degli avveduti vicino al mercato del pesce davanti al cinema Politeama, vista dall'alto. Chiudiamo invece i confini, è un po' spero una provocazione perché sennò non si capisce bene. Chiudiamo i confini della regione e sospendiamo le attività economiche per 15 giorni. Lo dice il presidente di Ristor Italia, Giorgio Andrea Ricci, che chiede al presidente delle Marche di imporre immediatamente ai cittadini un lockdown lampo. Passamano, solidarietà al Codma, la raccolta di alimenti e vestiario. Si parla di un'iniziativa dell'ambito sociale fanese che incrementa i suoi aiuti alle famiglie in difficoltà con il finanziamento del progetto che appunto si chiama Passamano. Un progetto che coinvolge nella stessa misura tutto il territorio e si avvale anche della collaborazione delle associazioni private, oltre che al finanziamento del finanziamento per 60 mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Il Fano Film Festival decolla, è la notte delle premiazioni, questa sera alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna, ci sono soltanto 88 posti, non è richiesta la prenotazione. In fila sotto la pioggia invece è la fotografia dei medici di famiglia che l'altro ieri sono andati a ritirare i vaccini anti-influenziali. Anche per i medici è un'odissea, lo sfogo del dottor Paolo Mici, guardate questa fila di persone, scrive tutto per colpa dell'Ausul, l'approvvigionamento va a rilento, poche dosi rispetto alle richieste che sono più alte del solito e come se ci avessero consegnato una macchina ma senza metterci praticamente la benzina. Intanto anche a Marche Nord si potranno fare i tamponi. Questa invece è la pagina di Pesaro, sempre del Carlino, che si occupa di economia e in particolare della cessione della maggioranza delle quote della storica TVS, un'azienda che nel 2019 ha chiuso con 90 milioni di euro con un utile di 2 milioni e 138 mila euro e che ha lo stabilimento a Fermignano, siamo nel Pesarese, dove ci lavorano 300 persone senza contare poi tutto l'indotto. Bene, è stata un'operazione complessa, lunga, che ha portato all'accessione del 60% appunto della TVS della famiglia Bertozzini, alla Meyer Corporation, società nata a Hong Kong e guidata da Stanley Cheng, ma che ormai da diversi anni ha il suo cuore commerciale negli Stati Uniti. E questa sinergia, dicono, ci permetterà significativi risultati commerciali. Nel pacchetto poi è finita anche la fabbrica, è finita la fabbrica di Tunisi e le varie commerciali estere. Da Valefoglia invece, Monbaroccio, la casa di riposo Bricciotti, non vogliamo trattare su questa casa di riposo, la maggioranza ribadisce le sue posizioni, resta qui e nessuna privatizzazione, speriamo che il Presidente Acquaroli non sia ambiguo come il suo predecessore. Baldelli intanto è il nuovo assessore della Regione Marche, assessore regionale, ha fatto visita all'ospedale di Pergola e poi il suo debutto. Stanno tentando di indebolire ulteriormente la struttura, a rischio la radiologia. Dunque non ha perso tempo, il mio assessore regionale Francesco Baldelli, nello stesso giorno della nomina, ha deciso di fare un sopralluogo all'ospedale della sua città, dopo essersi regato al nosocomio di Fossombrone, è andato anche al Santi Carlo e Donnino su invito degli operatori sanitari. Poi sotto invece è un frontale tra due auto, il sinistro è avvenuto ieri dopo le 13 a Monteporzio, all'ingresso del paese, si sono scontrate due auto guidate rispettivamente da un uomo e una donna, entrambi residenti nel centro cesanese, tutti e due sono finiti all'ospedale di Fano. Da Senigallia invece un ordigno bellico sul ponte 2 Giugno, cantiere fermo, il restyling può slittare, transenne in centro, bomba rimossa, per la ripresa dei lavori serve l'autorizzazione della questura. Da Senigallia il Carlino invece la preoccupazione delle categorie produttive incontro del neosindaco Massimo Livetto, le associazioni dicono abbiamo paura di eventuali chiusure progressive delle imprese, il sindaco vuole avviare incontri mensili, il 28 parlerà con i balneari e anche qui vedete l'ordigno bellico che è spuntato sotto il ponte del 2 Giugno, gli artificieri sono subito intervenuti e hanno rimosso la bomba che però sarà fatta brillare altrove. Sorpresi con gli spinelli prima della scuola, guardate questa è la pagina di Senigallia, poco fa abbiamo parlato della scuola di Fano, qui siamo a Senigallia, pochi chilometri più a sud, tutto un mondo paese, purtroppo tanti giovani tengono e smerciano queste sostanze, blitz della polizia, tre studenti sono finiti nei guai, inutile il tentativo di una diciottenne di disfarsi dello stupefacente, trovato dagli agenti in una siepe. Poi il profugo che accende la tensione lancia insulti alla tabaccaia nel centro di Ostravetere, la commerciante impaurita fa intervenire i carabinieri. Questa invece è la pagina del Covid del Corriere Adriatico di oggi, anche qui come tutti i giorni, ormai da tanto tempo fa il resoconto della giornata, anche per avere un'idea di come sta andando la situazione nella nostra regione, un positivo su 10, il ritmo del contagio rimane sostenuto, i ricoveri in un giorno da 70 passano a 83, nuovo paziente in rianimazione, in questo momento sono 10, il virus corre soprattutto ad Ancona dove sono stati registrati 50 casi, continua l'escalation dell'infezione in famiglia. Tutto questo lo troverete nel giornale di questa mattina, tra i pazienti a Torrete anche un minore, stabili invece le quarantene, si valutano pro e contro per dare il via libera allo sport dilettantistico. Questa è invece la pagina 2 del Corriere, del resto del Carlino, arrivano qui i malati di Ascoli, siamo sulla pagina di Pesero e si ripensa anche alla fiera Covid di Civitanova. Riaprire la struttura ci si sta pensando, serve però del personale, un incontro in regione con i vertici della sanità, per adesso nessuna fuga in avanti in attesa del confronto con il governo. Certo da settimane nelle Marche si fanno più tamponi perché la sorveglianza sanitaria è parte essenziale della strategia di protezione dal virus, ma anche ieri si è riusciti a mantenere stabile il rapporto tra i nuovi positivi e i tamponi processati. Sono stati infatti 115 i nuovi casi di coronavirus individuati nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi dall'inizio della pandemia è salito dunque a 1133. Abbiamo detto però, e qui io devo dire che la provincia di Peso Urbino, i pesaresi, i fanesi, insomma tutti quelli che stanno in provincia di Peso Urbino si stanno comportando molto bene perché, guardate, andiamo a vedere i dati specifici. Ad Ascoli Piceno 28 positivi, 50 in provincia di Ancona, 17 in quelle di Macerata, 17 nel Fermano, 2 soltanto nella provincia di Pesaro e Urbino. Andiamo avanti così. Poi, sul pagina invece 9 del Quotidiano Nazionale vale la pena un attimo segnalarvi questa intervista che Massimo Couto ha realizzato con Massimo Fini, 76 anni, giornalista e saggista. Lavorò al giorno negli anni 80. Il jacuzzi di Massimo Fini ha il pensiero unico. Ora basta, parliamo troppo del Covid. L'informazione è monopolizzata dal virus perché la nostra società è terrorizzata dall'idea della morte e così rinunciamo a vivere. I media, i mezzi di informazione, hanno dato una sponda al morbo ma nel mondo ci sono tante altre cose, sia belle che brutte, e allora parliamo di quelle. E poi sentite che cosa dice a proposito delle coscienze annebbiate e dei cattolici. Neanche i cattolici credono più. Il senso del sacro è scomparso, la religione è come la superstizione. Vale la pena, chiaramente non è Vangelo quello che dice Massimo Fini, è una provocazione, è anche un modo per ragionare e riflettere su queste parole, anche su quello che effettivamente ci è capitato anche a noi cattolici, come abbiamo vissuto, come la stiamo vivendo, quali sono state le azioni messe in campo noi nel mondo cattolico e quant'altro. Insomma, una bella intervista che vi segnalo sul quotidiano nazionale Resto del Carino di questa mattina. Intanto, ieri parlavo con un ristoratore il quale mi confermava quello che adesso sto per leggervi, ovvero che soltanto nella giornata di ieri ha avuto disdette per cento posti nel suo ristorante. Disdette persone che hanno telefonato e hanno detto non ce la sentiamo più, visto che la situazione sta andando e sta peggiorando, non ce la sentiamo di venire quindi al ristorante e di mangiare insieme ad altre persone. Quindi cento persone che hanno rinunciato. Infatti il titolo è questo. Nei bar vince già l'effetto paura, si vedono sempre meno clienti. Da 10-15 giorni i titolari dei locali registrano un forte calo. Con l'aumento dei contagi sale anche la psicosi. E' il timore che arrivino nuove restrizioni come è successo a marzo. Noi però non saremmo in grado di reggerlo, dicono in coro tutti i ristoratori, baristi, chi lavora nel commercio. Si è lavorato molto in estate ma siamo già, siamo giusto riusciti a recuperare le spese legate alle chiusure. Ecco dunque la paura poi che fa più danni probabilmente anche del virus. Altre categorie penalizzate sicuramente abbiamo parlato dei matrimoni. I matrimoni c'è un limite che è quello dei 30 invitati, quindi impossibile perlomeno insomma fare, programmare un matrimonio con 30 invitati. E chi ci rimette sono i catering, le aziende che dunque sono al tappeto, ultimi banchetti a febbraio. Queste nuove restrizioni limitano a 30 gli invitati a pranzi e cene per cerimonia, affari azzerati ma intanto continuano a chiederci soldi per le bollette e per le tasse. Addirittura anche i conguaglie hanno il coraggio di far arrivare. Quindi questa è la situazione. La Gorini SRL con una filiale anche a Milano dice siamo attivi da decenni, oggi il nostro è uno dei settori più penalizzati. Dice poi vedete Romano Lorenzi, proprietario del Piccolo Mondo di Monbaroccio, Walter Perugini nel settore da 38 anni con la Perugini Banketing. Questa è la fotografia di quello che insomma sta succedendo di nuovo purtroppo sulla fronte ristoratori e quant'altro. Movida, una pattuglia invece specifica per i controlli del fine settimana a Pesaro, la polizia della comandante, scusate, della polizia locale Francesca Muzzini entra nel dettaglio dei servizi preposti. Mentre Gianluca Murgia scrive questa mattina un pezzo sulla telefonata che è intercorsa tra Valentino Rossi dalla sua casa di Tavuglia dove si trova in questo momento con i DJ della radio di Milano e lui racconta un po' quello che sta vivendo, quello che ha vissuto nelle prime ore quando ha scoperto che il tampone era positivo. Poi dice anche ho scritto a Federica Pellegrini e le ho detto che il virus ci vede bene. In che senso ci vede bene? Perché io, te, Cristiano Ronaldo, Ibra, Fognini adesso ha alzato il tiro. Le cronache mai confermate neppure da indizi social avevano ipotizzato di un blitz di Valentino Rossi in aereo a Milano il 13 ottobre dalla fidanzata Francesca Novello in occasione del ventisettesimo compleanno di lei. Martedì mattina dice però Rossi era un risultato negativo al tampone, ero pronto a partire per Aragon ma tra mercoledì e giovedì mi sono sentito male. I sintomi erano quelli mal di schiena, mal di ossa, mal di testa, febbre a 37,6. Mi sono detto il secondo, mi sono detto ecco è arrivato. Il secondo tampone è rapido e risultato negativo però ha deciso di non partire comunque perché non stava bene. Alla fine è arrivato il tampone quello vero non quello rapido e il risultato appunto era ed è stato negativo. Ancora da Senigallia Movida, scuola, le sorvegliate speciali, l'SOS di Olivetti, il nuovo sindaco, controlli senza sosta, tavolo sulle norme anti-covid con le associazioni di categoria che sono state convocate d'urgenza. Intanto mercoledì il debutto del nuovo consiglio a Senigallia, il giuramento del sindaco e l'elezione del presidente. Poi ciao Marion o Marion ci mancherà il tuo sorriso. Addio a Mario Palazzesi aveva 70 anni, ricordo di rifondazione comunista. È morto a 70 anni. Casoli invece, questo è uno scontro che c'è stato su Palazzo Raffaello e che il Corriere Adriatico evidenzia questa mattina in una pagina intera. Casoli, qui parliamo di imprenditori, parliamo di Confindustria Ancona. Casoli attacca Schiavoni, ora basta con il Cencelli. L'imprenditore fabrianese dice nella storia di Confindustria, ha mai visto un attacco alle modalità di scelta della Giunta. Il presidente dell'associazione dice, anch'io sono molto meravigliato, non comprendo l'origine di questa polemica. Insomma, da una parte Casoli, che chiaramente dice, sono contento, anzi ha scritto in modo molto poetico su Facebook il cambiamento di questa Giunta. È un'alba che inizia a schiarire le valli e le montagne del nostro territorio e quindi favorevole ovviamente a questo cambio di casacca della nostra regione dal centro-sinistra al centro-destra. Mentre Claudio Schiavoni dice, mi sembra davvero strano che il neo governatore, quindi Acquaroli, non sia riuscito a trovare una persona competente e preparata nell'Anconetano. Devo ammettere che questa scelta delude avere un esponente della città più grande delle Marche, quindi Ancona, agevolerebbe anche il rapporto con l'ente, quasi fondamentale direi. E pare che queste dichiarazioni siano eravate prima ancora che Acquaroli decidesse o dicesse quali erano appunto i nomi della sua Giunta. Quindi già aveva capito che insomma sarebbe stato escluso un assessore dell'Anconetano e quindi magari con queste dichiarazioni pensava di fare, di aggiustare un po' le cose. Dopo Foua invece, questa è l'intervista che il Corriere Adriatico questa mattina ha realizzato con Martina Marinangeli all'assessore fanese Mirko Carloni. Dopo Foua il mio sogno, dice Carloni, è un nuovo modello Marche con politiche anticicliche. Vanno messe in campo, dice Carloni, politiche anticicliche, basta campanilismi, la diversità è un valore ma rischia di diventare il nostro limite se tutti, imprenditori, associazioni, università, istituzioni, non codificano un piano strategico. Serve, come dire, una visione di futuro alla quale agganciare poi i finanziamenti europei. E poi c'è la cosiddetta economia di ritorno, quella dei marchigiani nel mondo che è fondamentale. Si tratta di milioni di persone, forse milioni un po' troppo, ma comunque di tante persone nella nostra regione e quindi tenterò, dice Carloni, di creare una progettualità con loro e con l'associazione, perché esiste un'associazione marchigiani nel mondo, affinché sia un valore aggiunto per la nostra economia. Insomma, per dirla con una battuta, dice Carloni, marchigiani di tutto il mondo, aiutateci. Andiamo sull'altra pagina del Corriere. Le interviste anche qui. Intanto Agostinelli, che dice la senatrice pentastellata Donatella Agostinelli, che va all'attacco di Stefano Guzzi, dice un cacciatore all'ambiente che farsa. Se non fosse preoccupante sarebbe una farsa. Non pago di aver presentato la giunta più maschile d'Italia. Il neo governatore delle Marche Acquaroli sceglie per l'assessorato all'ambiente una persona che si qualifica apertamente come cacciatore. E poi la marcia in più, dice, hanno esperienza amministrativa. Qui ci sono due interviste. Vediamo chi sono gli intervistati. Beh, due imprenditori di primo piano. Adolfo Guzzini, che dice appunto hanno esperienza questi nuovi assessori amministrativa. Il leader dell'uliminazione dice basta con gli scontri e con i campanilismi. E poi Roberta Fileni. In tanti hanno espresso il desiderio di cambiamento e dunque è giusto così. Sono competenti, dice la Fileni, umani e attenti. Mi danno fiducia. L'imprenditrice dice l'ipotesi. Bacci, come sottosegretario, sì, mi piace. E l'inaugurazione. Qui andiamo sul Carlino però, è il Carlino di Macerata. Volevo soltanto farvi vedere questa fotografia perché probabilmente non l'abbiamo mai vista insieme. Si tratta dell'inaugurazione del palazzetto dello sport del nuovo parquet, del palazzetto dello sport di Potenza Picena. La regione ha dato 120 mila euro, quindi c'è stata l'inaugurazione ieri. Ecco, però la foto che volevo farvi vedere è di Acquaroli e Ceriscioli insieme. Ora, il governatore al taglio del nastro insieme al suo ex dopo l'estate del parquet e la cosa che mi ha colpito e che volevo segnalarvi è questa. Conosco, dice Francesco Acquaroli, e mi confronto con Ceriscioli da tanti anni e seguirò i suoi suggerimenti perché ha l'esperienza di chi ha vissuto quello che ora è il mio ruolo. Urbino, mafia, legalità e la mission dei giovani. Una lezione della ministra Lamorgese che ieri ha ricevuto il sigillo d'Ateneo consegnato appunto in mattinata e a sorpresa si presenta Sgarbi che omaggia l'autorità. Volponi, Dalla e Mascioli. Urbino non dimentica. Ieri l'intitolazione alle personalità. Significativa la presenza anche della gente. L'Ateneo sigilla l'intesa per la legalità. Questo è il Carlino, solenne cerimonie con il ministro Luciano Lamorgese. Siglato il patto tra la rappresentante del governo e l'università Urbinate. Sotto vedete Sgarbi e anche il presidente della regione Acquaroli, Vilberto Stocchi, l'ex rettore dice che si è impegnata al servizio degli altri, ha dato la priorità al fare anziché all'apparire e ha onorato il paese. Siamo qui sotto invece sulla pagina di Pesaro per la cronaca. Dal Carlino cade dalla scalinata e muore tragedia in viale Don Giovanni Minzoni, vittima un uomo residente a Cattabrighe. Cara pirata della strada in fuga, se hai cuore chiamami invece e aiutami. L'appello di Guido Maroccini, investito in moto da una donna, che poi si è dileguata con l'auto. Lui dice, ho le costole, per colpa tua, ho le costole rotte e anche la scapola rotta. Quindi se hai un cuore, fai la cosa giusta e ripara il tuo errore. Sempre dal Carlino, morto a 89 anni, l'imprenditore Giannino Polidori. Noto per l'impresa edile, ma anche per la passione che ha dedicato allo sport. Le esecue si terranno questa mattina alle 11 nella chiesa della Santa Maria di Loretto. Dopo la funzione, la Salma proseguirà per il crematorio di Fano. Siamo allo sport. La Vis di Scena Verona, caccia della continuità. Biancorossi sfidano la Virtus. Deramo out, rientra Gelonese. Marchegiani scalpita. Questo è il titolo della prima pagina di sport del Corriere Adriatico. Oggi in campo alle ore 15 allo stadio Gavagnin, arbitro Ubaldi di Roma 1. Per quanto riguarda invece Valentino Rossi, rimpianto doppio. Questa Yamaha vola. Rossi scrive alla Pellegrini, come abbiamo visto, per sdrammatizzare dopo la positività al Covid-19. Ad Aragon invece Vinales, Quartararo e Morbidelli davanti. Oggi alle 14.50 la Pol. Giocatore positivo al Covid. Squadra KO, l'Urbino, calcio all'angolo. Rinviata la partita di domani che vedeva lo scontro contro l'Urbania. Salterà anche la partita contro Iesi. Palace, Acquaroli dice no alla VL. Costa traslochiamo a Rimini. Il presidente è Amadori all'attacco della regione. Solo qui si gioca con 200 spettatori sugli spalti. Ci spostiamo in Romagna. Abbiamo bisogno di pubblico e di incassi. Per stasera biglietti a 50 euro. Dunque la decisione di giocare a Rimini. VL, Repegia, avverte la squadra. Entusiasmo sì, ma vietato illudersi. Il coach richiama i suoi per la delicata partita di stasera con il Trento. In Euro Cup hanno sempre vinto. È finita in fondo, ma doveva essere un po' prima. Comunque la curva Granata resta fuori. Sia Panthers che Ultra spiegano. Le norme anti-Covid rendono impossibile qualsiasi aggregazione. Dunque continua la premendita per circa 400 biglietti. Che è vietata fuori regione. Stop ai tifosi imolesi. Questa è la pagina dedicata al Fano. Il difensore Bruno dice vogliamo vincere per riscattare il KO contro la Samba. Anche qui il positivo giocatore dell'Urbino ha rinviato il derby con l'Urbania. Voglio salutarvi soltanto facendovi vedere la copertina del mensile Lisippo. I fanesi lo conoscono bene perché è in distribuzione gratuita nelle edicole della città ormai da tantissimi anni. Vi segnalo questa edizione di ottobre 2020 perché all'interno, se andrete a prenderlo in edicola, troverete due pagine dedicate alla nostra emittente. Due pagine che l'amico Sergio Schiaroli questo mese ha voluto dedicare alla nostra emittente televisiva. Ci sono tante cose interessanti, un bel articolo dove ci sono anche degli aneddoti, cose particolari. Quindi vi invito, se vi va, ad andare in edicola a prendere l'isippo di questo mese. Grazie per essere stati con noi da tutta la nostra redazione. Un augurio di un sereno fine settimana. Arrivederci. Grazie a tutti.